260 euro stiamo Porca miseria Perché non comprarvi anche l'Xbox con la tua carta? Cioè mi hai fatto spendere 400 euro Se arriviamo entro fine agosto A 600.000 iscritti Io gli raso tutti i capelli mentre dormo Certo tua sorella Raga iscrivetevi dobbiamo arrivare a 600.000 iscritti Raga scherzo a Peppe Lui crederà di utilizzare la mia carta di credito Per fare shopping Invece utilizzerà la sua Più sarà cattivo spendacione Nel sciupare i miei soldi E più farà un torto a se stesso Perché spenderà i suoi soldi Sono un genio Cos'è importante? Io e lui abbiamo praticamente la carta di credito uguale Perché la banca è la stessa Ehi che è grazie? Dobbiamo registrare un video Che vuol dire? Devi essere più contento No perché ho paura di dire No 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 questo video ti piacerà Ti do la mia carta di credito Tu puoi fare tutti gli acquisti che vuoi Giuro però ovviamente Non è che ti metti a comprare computer, iphone Limitati un po' Però puoi comprare quello che ti pare Sì Dai No è possibile non ci credo Sì perché comunque ti voglio ringraziare Perché comunque stiamo sempre insieme Poi tu per fare i video spendi molti soldi Ah io fin quando non vedo il primo prodotto comprato Non ci credo E andiamo 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 Senti tu e tutti quanti che non ci credo E ora vedrai andiamo Va bene Io devo testare se la situazione è vera Certo che è vera Ma perché non mi credi? Ok partiamo già da media world Ok Cioè vuoi andare a media world? Sì Cioè inizi proprio Col botto Va bene Io sono convinto c'è qualcosa che non quadra Perché non posso fare degli regali? Bro Già il mio compleanno è a sé che mi fa il regalo Che sei un bugiardo Si è precipitato agli iphone Sono fatti i suoi Sono fatti i suoi Io non ne voglio sapere niente Ti ricordo che non è che puoi spendere 10 miliardi di euro Certo Tutto ha un budget Il budget giornaliero della carta Ah c'è con la pregatura Ok allora Tanto ma non tanti Testiamolo va bene Testiamolo ok Ok non perdono C'è qualcosa sotto Brutto 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 qua Possiamo vedere come il Papios sta scegliendo delle carte dei Pokémon Esattamente Prenderai queste? Forse sì Cioè vuoi spendere solo 16 euro? No 16 euro è poco Questo sono 50 per dirti 50 euro è un po' poco secondo me Cioè ti do l'opportunità di utilizzare la mia carta e comprare ciò che vuoi E tu che fai? Spendo di più ok Che non anche se lo c'è un occhio di apri Uno di questi I monopattini Sì Perché il monopattini? Ma stiamo esagerando Allora è vero Non ti fa bene niente Scusami Scusami rischi di 900 euro per un monopattino o no? No però 379 Cioè lo dico per te poi eh Per me Devi pagare tu Che cacchi monopattini No per te perché Cioè poi ti compri il monopattino e finisce qui tutto il video Capisci? Ah e quindi c'è il budget? Dobbiamo scoprirlo in corso d'opera finché non si blocca la carta Allora ragazzi qua è una scammata No è una scammata Scusami ti ho detto che devi spendere più di 50 euro Questo? Che cos'è? Una soundbar da collegare alla televisione 89 euro Posso spendere 69 euro? È troppo per lei? No Dai Questo va bene Sì sì va bene Ma ok Posso? Sì Guarda lo paghi tu eh Io non posso spendere Certo Eh non mi crede Eh non mi crede Ha una sfida incredibile io È aumentato i 10 euro Arriviamo a 100 euro Sì Vabbè dai Primo acquisto a 100 euro Eh se sta Speriamo Sei contento di questo regalo che ti ho fatto? Sì ne faremo altri Questa è una cosa bella Hai visto? Sì Non c'è trucco Non c'è imbroglio Sto facendo dei regali Ancora Sei contento? Allora io questa qua me la lascio E la paghi tutta tu Io non so Certo che la devo pagare io Eh qua c'è qualcuno che non va Ok Grazie Grazie Cioè tu hai veramente comprato la soundbar per me E qui c'è lo scontrino Eccolo qui Vabbè Eh sarà un bel video Hai visto? Guardate come sto sorridendo Allora io ho già un piano Andiamo alla filtrina lì veloce proprio scappando Sì però dai ti prego andiamo in macchina Vabbè lasciamola Ok Visto che ti ho fatto spendere 100 euro Ci teniamo più tranquilli Che ne dici? Vediamo In realtà mi servono le mutande raga Mi servono le mutande Quindi andiamo Adesso Ammirerete Le mutande sexy Del mio ragazzo Ma sono magnifiche Ah bene Cioè 11 euro di mutande Ben spese Graziana Non posso evitare le mutande Hai 40 anni Vabbè che cosa significa? Aggiornamento Ho cambiato mutande Perché quelle non mi piacevano Erano solo due Queste convengono di più A 10 euro Sono anche molto più belle Cioè devo dire E poi ho trovato un capolavoro Che cos'è? Un peluche? No È una coperta Di squirtle Ma siamo ad agosto E ho 30 anni Ma non mi piaceva niente È bellissimo Raga non ha veramente 30 anni Ma lo compri dopo Vedi che cosa me ne puoi fregare? Ok Basta vuoi vedere altro? Ma scelti? Certo che do lo shop Cambiamo Cambiamo negozio? Sì Grazie mille Grazie E come striscia Graziana E come striscia E come è potente Che dà tua busta? Ragazzi ma se è un sogno Svegliatevi Ho pagato un 30 euro 30 euro di ruba Però potevi spendere di più Che cavolo Ma tu mi hai detto Se vuoi qualcosa di bello Andri meno un altro negozio E qui c'è la Feltrinelli Andiamola E io so già che tu la voglio Ho paura Ho paura Invece non ho paura raga Tanto spende lui Allora io mi sto comportando benissimo Perché se volessi qua Potrei riprendere tutto Cioè C'è tutto di Harry Potter No vabbè Tanto io so già ciò che voglio Perché sono venuto qui apposta apposta Per questo quindi La nuova edizione Dei libri di Harry Potter Però Questo Non mi va bene Io voglio Grifonduro Ma 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 C'è tutto incartato Tutto Tranne Grifonduro Cioè sono l'unico non incartato Vabbè vai in cassa Andare a chiedere in cassa Per forza Vado a chiedere in cassa E spero al signore che ce l'abbiano Perché Costa 130 euro Parca vacca Grazie a cash Uffa Ma non puoi prendere una cosa più economica Mi hai detto di cosa come ciò che voglio Ah già Hai ragione Hai ragione dai Ora li prenderei tutti e quattro Buonasera Ci stai prendendo un po' troppo gusto Tu non hai idea di quanto sto godendo in questo momento 260 euro stiamo Porca miseria Smettila Io lo dico per te Ma perché per me Perché poi non compri tante cose È meglio avere poche cose Ma io sono contentissimo così Cioè io sono Anzi ora ti farò anche un altro acquisto poderoso Tra un po' Perché ho diventato in mente un'altra cosa È il momento di mangiare Quindi vorrei una bella pizza Solo Vabbè non è che sono un bue Cioè ok tutto però Quindi intanto mi scioppi una pizza Va bene 3 euro e 70 Cioè Non è che dici che ti sto facendo spendere l'ire di Dio Sono buonissimo Trovatemi un ragazzo più buono di me Sì dopo che ha speso già 200 euro Vabbè io ti ho detto Spendi quello che vuoi Compra di ciò che vuoi Quindi non ti preoccupare E poi non sto facendo bravo Cioè non mi dici grazie Grazie Bravo Ho capito tutto Potevo non andare da GameStop Non puoi prenderti un altro Come si chiama Pokedex Come si chiama lui Di Pokémon Tutte le carte di Ho pensato a un acquisto poderoso Posso spendere un po' Certo Ok Ho già la PlayStation 5 Perché non comprarvi anche l'Xbox con la tua carta Scusami Vabbè non mi sembra una cosa La vuoi? Basta che non è inutile Sì dai ci posso comunque giocare Sicura? Io non l'avrei comprata Però con i soldi tuoi sì Va bene Sicura? Sì Grazie Ciao Io sono convinto che tu ora Ti sei messo d'accordo con la commessa E in realtà dentro c'è un mattone Ma perché? Non è possibile Ma guarda quante cose mi hai comprato Non è possibile Vabbè Devi prendere altro Sei soddisfatto No dai ma ti ho fatto spendere un botto Di lei basta Cioè siamo arrivati a quanto? Eh no 300 400 400 e passa No vabbè una roba incredibile Allora oggi ho un giorno incredibile Ho fatto tipo jackpot Non lo so Però Siccome il Papios è una persona Molto molto buona Ho un po' approfittato Ma me l'ha detto lei Se ho giustificato L'Xbox l'ho comprata usata Così ho speso 200 euro e 18 centesimi E ho L'Xbox Che mi mancava Perché oh Che fai? Te ne hai privi delle esclusive? Certo Lo potevano un po' pulire Visto che è abbastanza sporco C'ho anche Le ditate del cristiano Che giocava l'altra volta Però Eccola Sei contento? Mizzica Lui continua a guardarsi Con gli occhi a cuoricci Grazie Troppa roba Hai visto? Sì Numero 1 Fidanzata numero 1 Bro Numero 1 in the world Non esiste una fidanzata migliore Io voglio andare a casa A provare l'Xbox Quindi noi ci vediamo Nel prossimo video Che spettacolo Cioè oggi Tra Il fatto che devo sistemare I libri di Harry Potter E L'Xbox Ti sei condannata Perché non mi vedrai più Forse ci sarà un altro motivo Per non vedermi Quale? Sai che ho pagato Tutto con la carta No? Ah Non so come dirti Sorpresa Oggi ma tu Ma tu Mi devi spiegare Tu c'hai il cervello Che non ti funziona O hai avuto un attacco Contro una parete Da piccola Fammi capi Mi hai detto Tu spendi Ma io non lo so Ma tu sei stupida Vabbè Erano cose che volevi Meno male Tranne l'Xbox Che se poco a poco Iniziamo a prendere l'iPhone E tutto il resto Mi sparavo Poco 400 euro No sei tu No sei tu che fai schifo E sai quella cosa più grave Che non hai fatto nemmeno un pensiero a me Hai pensato solo a te Ma erano soldi tue che faccio Ti faccio un regalo a te stessa Perché non puoi dire Dato che sto faccio un regalo a mia fidanzata Tu mi hai detto Spendi soldi Perché è un video per YouTube Ok E io li ho spesi Ho capito Ma al posto di prenderti l'Xbox Magari potevi prenderti un gioco Che pagavi meno E direi comunque felicia L'utilizzavi Invece no Ti sei fatto un torto E' un po' arrabbiato Dai vai Mi sembrava strano Se mi facessi un regalo Quando mai mi fai i regali tu? Cosa? Ci stava un prank cattivo Te lo meriti Te lo meriti Dopo tutte le cose che mi fai passare Te le meriti Ragazzi per favore Ho bisogno di altri Sì 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 Ho bisogno di altri 20.000 like Perché Già l'ho fatta L'altra volta L'ho fatta Innervosire Stavolta Deve esplodere Il mondo Se arriviamo entro fine agosto A 600.000 iscritti Io Gli raso tutti i capelli Mentre dormo Certo Tua sorella Si si Raga iscrivetevi Dobbiamo arrivare a 600.000 iscritti Entro la fine del mese Dai 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 Peppi ho spelato